Il 14 dicembre a Milano organizziamo un convegno sulla tematica delle liberalizzazioni e della concorrenza nel settore assicurativo. Sono trascorsi poco più di dieci anni dalle cosiddette lenzuolate bersani che hanno coinvolto il sistema della distribuzione assicurativa attraverso l'abolizione delle clausole di esclusiva. Questo ha cambiato il mercato senza rivoluzionarlo nel mondo della distribuzione, in quanto si è dato più spazio al plurimandato e quindi molti agenti hanno ritenuto di cogliere questa opportunità per dare un miglior servizio al cliente e per migliorare la propria redditività agenziale. Nel frattempo invece cinque anni fa con una legge sono state introdotte le collaborazioni fra intermediari che hanno avviato a un livello sicuramente meno strategico ma altrettanto importante un arricchimento dell'offerta assicurativa in capo al distributore assicurativo. SNA vuole fare il punto a dieci anni da queste importanti novelle legislative per poter fare una fotografia del settore. Abbiamo organizzato una giornata che si svolgerà sommariamente in questi termini. Avremo un importante intervento di esordio dell'Istituto Bruno Leone. Un intervento, sapete, il Bruno Leone si occupa ogni anno di darci il posizionamento dell'Italia nell'ambito del ranking europeo circa i gradi di liberalizzazione e farà anche un focus ovviamente sul settore assicurativo. Poi ci sarà un confronto moderato da Angela Maria Scullica delle Fonti fra un esponente dell'autority della concorrenza e l'avvocato Paolo Martinello che è presidente dell'associazione europea delle associazioni dei consumatori. In questo tette a tette, in questo confronto, si cercherà di guardare cosa ha guadagnato il consumatore italiano da questa maggiore concorrenza di questi ultimi dieci anni. Poi la chicca di questo evento è una indagine conoscitiva nel mondo della distribuzione a cura di Innovation Team, daremo quindi una fotografia di quello che è il settore distributivo oggi e nella tavola rotonda che seguirà, in cui compariranno esponenti di Ivas, delle associazioni dei broker e dello SNA medesimo, il conduttore Enea Dallaio, manager di Innovation Team, condurrà quindi questa tavola rotonda sulle tematiche e sugli spunti che trarremo da questa indagine conoscitiva. Un intervento conclusivo lo lasceremo a Patrizia Contaldo dell'Università Bocconi che sarà attenta a cogliere tutti i segnali derivanti dalla giornata, dal confronto per poter trarre le conclusioni che poi probabilmente daranno conclusioni che poi proseguiranno negli spunti sulle riviste di settore, sul nostro house over, ma anche tramite le fonti che è sempre molto attenta alle tematiche della finanza e dell'assicurazione.